siamo nel pianeta no noi dobbiamo votare del no perché i 5 stelle votano no oggi si devono spiegare le ragioni perché dobbiamo votare il no e vengono i parlamentari dei 5 stelle a spiegare la situazione meglio cosa no perciò tutta la cittadinanza è invitata di santa margherita e montevago non è che solo qua giusto guardate un po quanto gente che c'è oggi il movimento c'è il movimento c'è il movimento